Con il direttore Stefano Rossi un po' di numeri, partiamo da questi perché forse già questi raccontano la situazione che voi state vivendo e che andrete a vivere. È abbastanza frustrante perché anche noi ovviamente sappiamo che ogni euro che risparmiamo lo mettiamo a beneficio dei servizi e facciamo risparmiare le famiglie perché noi ovviamente la nostra fonte di finanziamento sono le rette per cui ovviamente c'è ancora una maggiore attenzione. E vedendo quello che era successo negli anni precedenti con una discreta razionalizzazione dei costi, questo è stato veramente una mazzata. Anche perché non capiamo quando sentiamo dire che la colpa è la guerra, bisognerebbe capire come va il metano, è iniziato ad aumentare a novembre, dicembre e ha raggiunto il picco a gennaio e febbraio, quando la guerra è iniziata il 24 febbraio, sto parlando 2020 e 2021. Un esempio di gennaio 2021, 13.400 euro contro il gennaio 2020 con un minor consumo che era di 5.663. e febbraio più o meno la stessa percentuale, da 136% a 145%, ma andando così a vedere dei numeri più significativi, sul fronte l'energia elettrica, poi dopo l'estate il metano ora è stato fermo, quindi non è indicativo. Ma è stato purtroppo anche il tempo non c'è, diciamo così, stato amico quest'estate, perché sapete benissimo che è stato un caldo fuori della norma e quindi abbiamo tutti i condizionatori accesi, quasi tutta la struttura è per fortuna all'area condizionata. Luglio e agosto 10.000 euro del 2022, luglio e agosto del 2021 2.000 euro. Un incremento, leggo qui nel suo specchietto, che supera nel caso del mese di luglio il 400%. Passo velocemente alla Presidente Deborah Testi, ecco, questo è un tema che riguarda, lei mi diceva, tante RSA. Come pensate di far sentire la vostra voce nei confronti del governo e comunque delle istituzioni? Allora, questo è un problema veramente molto grave, molto importante, perché noi comunque dobbiamo garantire il benessere dei nostri ospiti. Stiamo cercando in tutti i modi di non pensare neanche ad aumento delle rette, perché non vorremmo che questo problema ricadesse poi sulle famiglie che già hanno da fare i loro conti a casa e quindi dovremmo in tutti i modi farci ascoltare dal regione ma soprattutto dal governo. Spero che ci saranno veramente degli aiuti e che ci saranno degli aiuti sostanziosi, perché una struttura come la nostra con queste cifre veramente è in difficoltà, in grossa difficoltà.